Buonasera siamo qui sui Kennedy Stadium oggi si affronteranno per il torneo di Snow Cup, Europet, San Giovanni contro Virtus.Napolis. Le squadre fanno l'ora ingresso in campo e si posizionano al centro del terreno di gioco. Saluto al loro pubblico come di consueto momento di fair play. Il direttore di gara di questa sera è Alessandro Passarella che chiama a sé i due capitani per il sorteggio della Valle del Campo. Tutto pronto, buon divertimento! Alessandro Passarella 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 Alessandro Passarella